benvenuti qui sul mio canale io sono Alcricro e ho qua un nuovo video questa volta un video velocissimo che vi spiegherò come registrare da ps4 e vi farò vedere sia visivamente ma anche a schermo vi farò vedere come configurare il vostro sistema tutto l'occorrente in descrizione ci sarà scritto tutto sia dove comprare la scheda di acquisizione lo sdoppiatore che utilizzo io in questo video ma passiamo subito al solo allora eccoci qua abbiamo qua la nostra ps4 eccola qui e il nostro pc con ovviamente la nostra scheda di acquisizione in questo caso il gatto game capture hd allora innanzitutto la configurazione veloce veloce da spiegare comunque in sovrappressione vi farò uno schema schematico allora ps4 cavo hdmi che parte si collega a questo sdoppiatore hdmi qua questa è l'alimentazione dello sdoppiatore eccolo qua insomma che ha bisogno di alimentazione qua c'ha le due uscite che ovviamente ne sto utilizzando solo una altro cavo hdmi che gira 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 e finisce dentro del gatto game capture hd e gatto game capture hd come al solito hdmi che va allo schermo e usb che va al pc allora innanzitutto c'è in poche parole è lo stesso collegamento che fate solitamente con la vostra scheda di acquisizione l'unica cosa è che nel mezzo dovete piazzare questo questo dispositivo che permette di dividere il segnale in due potete volendo attaccarlo a un'altra televisione ma non serve a quello cioè non serve a quello a noi in questo video non lo utilizziamo per quello quindi in in sostanza avete bisogno di un cavo hdmi in più rispetto a quello al numero di cavi necessari per una configurazione normale apriamo qua il game capture hd come possiamo vedere il video è in live cioè nel senso ovviamente c'è il suo ritardo però sta funzionando eccolo qua allora le configurazioni apriamo le configurazioni semplicissime non ci vuole niente di che l'unica cosa che dovete fare che non vi sembrerà normale ma è impostare dispositivo di ingresso xbox 360 per ora lasciamo stare il coso ps4 perché non sembra funzionare bene dicono che lo supporterà più avanti quindi ogni ora mettiamo xbox 360 ingresso hdmi qua abbiamo full hd 1080p 60 frame in ingresso però in uscita non possiamo registrare secondo me ci sono limitazioni tecniche del delgato a 60 frame ma a 30 se volete impostare a 60 frame anche il video di uscita dovete impostare la vostra xbox one o anche la vostra ps4 su 720p così cosicché 720p in ingresso e 720p in uscita ma entrambe a 60 frame ovviamente dovete avere attiva questa impostazione ovvero mantieni il formato originale bene ragazzi questo video è andato insomma spero di essere stato chiaro utile e veloce nello spiegare come configurare questo dispositivo e poter registrare finalmente su ps4 senza utilizzare il tasto share un saluto dai kriga al prossimo video che probabilmente sarà su ps4 ciao ciao